Sono oltre 9.000 le assunzioni nel 2021, più 2.700 rispetto al 2019. È il dato più significativo dell'indagine dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e occupazione in Friuli Venezia Giulia. Il 2021 è stato l'anno del cosiddetto grande rimbalzo. Il PIL regionale è cresciuto di oltre il 6%. Export di prodotti industriali e le costruzioni nell'edilizia, insieme all'uscita dalla forte crisi del turismo e del commercio, sono stati fattori trainanti. L'incremento dell'occupazione è diffuso in tutta la regione. In provincia di Trieste si è passati da 931 posizioni di lavoro nette a oltre 1.370, 411 in più. Nel dettaglio le assunzioni sono cresciute del 3,4% per i maschi e dell'1,6% per le femmine. Alto anche il numero dei nuovi contratti per chi ha meno di 29 anni, con un incremento di oltre 4.000 rispetto al 2019. Invariate invece le assunzioni dei lavoratori tra i 30 e i 54 anni. La crescita degli occupati in particolare è trainata dal lavoro a termine e le assunzioni crescono soprattutto nei comparti a maggiore intensità di capitale, ossia le costruzioni e la manifattura. Nella produzione industriale della regione l'incremento arriva soprattutto nel settore del legno, della fabbricazione di prodotti di metallo e in quella di macchinari e apparecchiature.